Modern Authentication per applicazioni web Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a fare un passo avanti sulla Modern Authentication che ho introdotto nel video precedente Parliamo di autenticazione moderna per applicazioni web, andiamo a vedere qual è lo scenario e come funziona il flow, il meccanismo, come passano i token e così via Quindi andiamo subito alla lavagna Nel video di introduzione alla Modern Authentication abbiamo disegnato questo schema con i tre attori coinvolti Il client, un server e un identity provider, su cui avviene il meccanismo di autenticazione di cui il server 1 si fida Questo è uno schema generico, andiamo a cararlo più nel contesto specifico dell'autenticazione per un'applicazione web Andiamo quindi a riproporre lo schema, abbiamo identity provider qui E però andiamo più nello specifico con il client, abbiamo un browser Browser e facciamo così E qui abbiamo un'applicazione web La mettiamo così con, facciamo più distante, perfetto Web server Infine ci manca solo una cosa, o meglio un qualcuno, l'utente che utilizza il browser e lo chiamiamo Antonio Perfetto Allora quello che succede è che Antonio utilizza il suo browser per navigare sul web server E a questo punto è una nuova sessione Il web server, Antonio non si è autenticato, non sa che questa sessione proviene da Antonio Come fa a saperlo? Lo vediamo in un secondo momento, sempre in questo video Per il momento, ok, basta segnarci che web server non ha conoscenza Che è Antonio che sta facendo questa richiesta Da qui ci basiamo sulla relazione di fiducia che c'è tra il web server e l'identity provider E il web server utilizza questa relazione per dire, ok, io ho bisogno di autenticare Antonio E per farlo voglio utilizzare l'identity provider di cui mi fido Per fare questo lo fa attraverso il browser di Antonio tramite un redirect E avviene una cosa di questo tipo A tutti gli effetti qui stiamo utilizzando il browser per autenticarci tramite l'identity provider Quindi stiamo vedendo una pagina web dell'identity provider Siamo usciti dal contesto del web server tramite un redirect fatto dal web server stesso Che ha appeso, attaccato al query string Quindi tutti quei parametri che si vedono dopo il punto di domanda Tutta una serie di informazioni utili all'identity provider Per completare il flusso di autenticazione A questo punto Antonio deve fare tutto quello che gli identity provider gli chiede per l'autenticazione Potrebbe essere fornire la classica copia a una mutante password Oppure usare una smart card Utilizzare un'app di autenticazione sul telefono Oppure una combinazione di questi fattori per avere un'autenticazione a più fattori Una volta che la questione dell'autenticazione è stata completata Tra il browser Antonio e l'identity provider L'identity provider sgancia un token E lo manda al web server sempre tramite il browser E abbiamo il nostro token T Che abbiamo descritto anche precedentemente Questo token viene trasmesso attraverso una chiamata HTTP POST Dove il token è nel body del messaggio Un termine che si sente spesso quando si parla di questi meccanismi È il termine dei binding Cioè come sono cablati diciamo tra di loro Questi passaggi di richieste di autorizzazione e token In questo caso abbiamo utilizzato dei binding di tipo HTTP Redirect Per far passare, per indirizzare il browser verso l'identity provider E poi abbiamo utilizzato l'HTTP binding come veicolo per passare il token al web server A questo punto il token è arrivato al web server Che lo può validare perché conosce l'identity provider In particolare ne conosce la chiave pubblica Che proprio in questo specifico caso dello scenario web La chiave pubblica è disponibile su un endpoint dell'identity provider Che la mette a disposizione di chiunque pubblicamente Tanto è la sua chiave privata e questo è esattamente il suo scopo Con questa chiave il token può essere decrittato E quindi può, il web server può effettivamente controllarne i claim Che avevamo citato qui Cioè i contenuti, le coppie attributo valore All'interno del token che non è nient'altro che un documento A questo punto il Antonio è autenticato Ma perché abbiamo validato il token tramite la chiave e siamo a posto A questo punto come facciamo a sapere che Tutte le richieste successive che arriveranno dal browser Queste richieste sono autenticate e sappiamo che provengono da Antonio Perché il web server confeziona il token in un cookie Che viene mandato al browser di Antonio I cookie HTTP non sono nient'altro che dei pezzi di informazione Delle stringhe che vengono mandati a un browser E gli viene detto Browser sai che c'è questo pezzo di informazione Questo cookie che io ti sto mandando Questa informazione ogni volta che tu mi fai una richiesta Per piacere rimandamelo indietro In questo modo io ho delle informazioni in più E so da dove proviene So chi sei Inoltre i cookie sono legati a un particolare host Quindi non è che il cookie che mi sgancia a questo web server Lo rimanderò indietro a chiunque Ma lo manderò per esempio Se questo è michelferracin.it Questo cookie verrà riagganciato a tutti i messaggi HTTP Solo verso il sito michelferracin.it E non per esempio su ferrari.com L'utilizzo di questo cookie stabilisce quella che si chiama una sessione Quindi una serie di messaggi che sono in qualche modo pertinenti l'uno con l'altro E sono pertinenti perché sappiamo attraverso questo cookie che appartengono ad Antonio Una cosa importante di questo cookie se ci pensiamo un attimo È che è un'altra forma di security token E per questo deve essere firmato E deve essere firmato con una chiave Scriviamola K2 qui Che appartiene e conosce solo il web server Non ha niente a che fare con la chiave degli identity provider È una chiave solo ad esclusivo uso e a conoscenza del web server Che serve appunto per firmare il cookie in maniera che non possa essere compromesso Perché questo pezzettino di informazione potrebbe essere utilizzato in maniera malevola E un attaccante potrebbe impersonare qualcun altro Ma non mettendo le informazioni corrette nel cookie In questo modo però è critografato e firmato e questo non può accadere Ok, quindi questo è il giro completo Abbiamo visto come all'inizio il browser che parla con il web server Viene rimandato, viene fatto un redirect verso un identity provider Attraverso il quale dopo essermi autenticato Ottengo un token che io riutilizzo e mando al web server Attraverso un http post nel body del message Questo lo impacchetta ulteriormente firmandolo E agganciandolo come cookie Alla sessione del browser di Antonio Che da questo momento risulterà autenticato in tutte le sue richieste I protocolli che implementano questo giro, diciamo, i più diffusi nell'industria Sono nel settore, sono lo SAML e l'OpenID Connect Fanno tutti questo giro di dialogo tra i vari attori Le differenze sono per esempio sui binding E in particolare su come viene generato il formato del token In particolare per esempio per lo SAML il token è in XML Mentre per l'OpenID Connect il token è in formato JSON Ok, per il momento sulla modern authentication per applicazioni web ci fermiamo qui Vedremo in prossimi video altri scenari come per esempio applicazioni native O applicazioni per smartphone Se da questo video hai imparato qualcosa o ti è piaciuto Mi raccomando, metti un mi piace e iscriviti al canale Così sarai notificato sulle nuove uscite Ciao!